Il significato è questo, che l'incontro con Gesù che viviamo nel cammino ci rende fratelli tutti. L'enciclica di Papa Francesco, che è il pensiero di San Francesco d'Assisi, che dobbiamo riconoscere che all'origine c'è colui che ci ha fatti, creati, salvati, guariti, liberati. E lui ci rende, liberandoci da tutti i mali, ci rende una cosa sola. L'unità non è il risultato di uno sforzo umano, l'unità è un dono di Dio. Chi si affida a Dio diventa figlio di Dio, quindi tutti fratelli. E perciò il dono della pace non sarà mai la conquista, il risultato della guerra, ma il dono della pace è una grazia da chiedere e da praticare attraverso l'esperienza cristiana. Grazie.